Bene, benvenuti, vediamo come fare la palizzata e la prima premessa per fare la palizzata è avere una texture quindi ho preso questa cercando legno su Google e adesso proviamo a prendere questa texture e metterla dentro delle asse, quindi la prima cosa che facciamo è di andare in Blender, ci avviamo il nostro cubo abilitiamo i nostri screencast, quindi vedete i tasti che premo e questo cubo lo trasformiamo in un asse cominciamo con l'asse verticale, quindi cosa facciamo? prendiamo lo scale, questo e cominciamo a appiattirlo in modo tale da simulare quello che sarà la nostra asse e poi, tutto questo in object mode, quindi abbastanza limpido lo cerchiamo di allungare in modo tale da fare un asse vedete che ho usato la scalatura e poi ho cliccato su questi simboli che ci fanno l'asse poi cerchiamo di fare in modo tale che questo asse sia magari lo facciamo ancora un pochino più fine e poi lo portiamo più in su in modo tale che stia sopra l'orizzonte sotto il piano quindi andiamo qui, lo alziamo un pochino e allora a questo punto questo asse ci accertiamo di averlo messo con la texture giusta qui farò una cosa abbastanza semplice e veloce nel senso che andremo nel materiale di questo oggetto vedete questo cubo che serve l'asse andiamo nel materiale e andiamo a specificare il base color clicchiamo qua andiamo a image texture e poi qui andiamo ad aprire e andiamo, io mi sono fatto un bookmark per reperirlo un pochino più facilmente ci mettiamo la texture della palizzata facendo in questo modo non lo vediamo la nostra asse non rimane ancora texturizzata perché dobbiamo selezionare una di queste due ultime opzioni facendo così vediamo l'asse texturizzato in tutti i sensi se clicchiamo su qua vediamo la texturizzazione senza le luci che può essere comodo per vedere come sarebbe al di là del sole come batte ok, una volta fatta un'asse basta moltiplicarla allora per moltiplicare l'asse basta andare in duplicazione quindi andiamo in select box qua clicchiamo sul nostro oggetto e poi facciamo shift D shift D in realtà no, teniamolo pure qua quindi facciamo così facciamo shift D cioè lo sposta ma noi in realtà adesso clicchiamo la freccia quindi abbiamo duplicato una volta e poi facciamo di nuovo shift D e tasto destro e clicca è un pochino artificioso così però facciamo quattro volte quindi facciamo shift D e Y per duplicarla sulla Y tasto destro e poi lo spostiamo quattro volte quindi in qualche modo cerchiamo di duplicare il nostro oggetto con il shift D che fa la duplica quindi a questo punto abbiamo le nostre quattro assi la duplichiamo un'ultima volta quindi facciamo shift D tasto destro e poi lo duplichiamo e quest'ultima asse la dobbiamo allungare un po' quindi andiamo così la facciamo un pochino più lunga perché quest'asse la facciamo laterale qua quindi a questo punto cosa facciamo? andiamo in rotazione questa la ruotiamo così in modo tale da centrare un po' tutto e poi cerchiamo di muovere quest'asse in modo tale che racchiuda più o meno tutta la nostra la nostra palizzata in questo caso è troppo lunga quindi dobbiamo accorciarla e per accorciarla ci limitiamo a in questo caso la cosa più semplice visto che adesso è storta non possiamo accorciarla nel modo normale vedete che così si accorcierebbe un po' strana quindi andiamo qui global e gli diciamo local in questo modo possiamo accorciarla allungarla lungo la direzione in cui è fatta ed è un po' più semplice e poi torniamo in global e andiamo in movimento e ci spostiamo l'asse praticamente dove vogliamo che sia la spostiamo un pochino anche lateralmente in modo tale da centrare la nostra palizzata e così abbiamo fatto un primo esempio di palizzata quindi questo è il primo video in cui vediamo la semplice palizzata formata da 5 pali buttati lì vediamo poi nel prossimo video invece la stessa cosa fatta con una palizzata appuntita quindi leggermente più completa grazie a tutti